L'Unione Pedemontana è entrata a far parte del GECT, le terre di Matilde in Europa, il gruppo europeo di cooperazione territoriale nel segno della principessa di Canossa. Il Consiglio ha infatti approvato la Convenzione e lo Statuto per l'ingresso nel network di cui fanno parte oltre 50, tra comuni, unioni, associazioni e fondazioni d'Italia, Belgio, Germania, Francia e Croazia. Una rete finanziata dall'Unione Europea che ha tra i suoi obiettivi il recupero del patrimonio storico, la valorizzazione delle vie di collegamento, delle bellezze paesaggistiche e la promozione turistica. A presentare il progetto è stato nei dettagli Centurio Frignani, segretario generale della sezione regionale dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Il GECT ha detto che non è un semplice progetto europeo, ma un vero e proprio istituto di diritto comunitario finanziato interamente dall'Unione Europea e i progetti che presenterà Bruxelles la precedenza nell'assegnazione dei fondi rispetto a quelli presentati dalle singole nazioni, ovvero un'importante fonte di finanziamento anche per l'Unione pedemontana parmense.